Siamo qua a Napoli Comic Con con Lisa e il suo papà, giusto? Com'è qua a Napoli Comic Con insieme, con papà? Bella, bellissima esperienza. È la vostra prima volta? È la prima volta che abbiamo. Sì. Non ci eravamo mai stati qui. Com'è questo Comic Con? Ci aspettavamo molto più piccolo, un po' organizzato. Invece devo dire che questo è uno dei più belli d'Italia. Bravissimo. Eh, diciamo siamo al secondo posto d'Italia, abbiamo scazzato anche quelli di Roma. Sì, infatti c'è Luca Comics. Eh beh, quello lì non si batte perché vedrai tutta la città lì. Andate anche a Luca dopo questa esperienza. Penso di sì, ci dovremmo andare. Prima o poi lo metteremo in programma, sicuramente. Anche per te la tua prima volta in cosplay? Sì, no, in cosplay no, al Comic Con, sì, cosplay dal 2014. Dove l'hai fatti? Qua si sembra a Romics. A Romics di Roma? Sì. Boh, diciamoci la vera, più bella Romics o a Napoli Comic Con? Non perché siamo a Napoli, quale è diventato più bello? No, non ci sono belli tutti e due. Cioè a Romics forse sono più affezionata perché ci vado più spesso. Però non mi aspettavo che Comic Con fosse così bello. C'è bello, grande, con tutto questo genere, con tutti questi cosplay. Sì, esatto. Ma poi la cosa bella ce l'abbiamo in casa e non ci andiamo, lo sappiamo. Perché questo è vero. Allora, facci un saluto a chi ci sta guardando. Avada Kedavra. Allora, facci un saluto a chi ci sta guardando.